Musica 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 C'è un brano O Sariken Ok Now we are going to do a little bit and we are going to do a little bit Sariken and we are going to be playing A couple of the second home and we are going to open G E poi? D G D D D Ok? Se inizia la grafione di una piaccia il capo è una seconda case E poi si tratta la intro C è una base di G Ok? Iniziamo C C'è la base di G E la base di G E la base di G E la quale è una cinchia corde Ok? Se inizia la grafione E la base di G E la base di G E la prima corde Ok? E la base di G E la base di G D E la base di G E la base di G Ok? E la base di G E la base di G Quindi vediamo il semmero come la bassa. Ok? Quindi vediamo. Quindi vediamo il semmero. Quindi vediamo il semmero, ma noto in semmero, ma non vediamo il D5 ma non vediamo il tuo volo. Se è un D5 che non lo so, come se O, Sali, Kade La corretta rita da Tsi Gatorina Non è vero, non è vetro De G1 Deve avere un D5 E Fitsiki no Se metà come la bassa G Deve avere un G Deve avere un D5, D D, A, Mi Balik ok? C'è D5 C'è ma la basse G Riveau G Ok E'otan Z方, la Lise D, riveau ma canonie Fiverè Ma n'a come D5 Ma varina C'è ma varina Ma varina Ma n'a come D5 e vediamo come lì A, C ma la capta bassa, G e vediamo G ok, bene e vediamo come la chitarra, come la chitarra, come la chitarra, come la chitarra, come la chitarra P5 ok, due gagne D5 D3, le slide D3, le poso le D5, la D majeure Il Vietnami è il cinquième case. Ok, sai. Desele riramente tutto, ma stu.